Ora mi sembra che sia più da gestire la manifestazione anti-rassista, anti-cosa, che è quella di Catapound, almeno dalle notizie che mi arrivano. Sì, ho visto dai video. Mi sembra aver sentito dei cori nei quali si accosta la polizia ai fascisti e si dicono che devono essere spazzata via la polizia. Le dico sinceramente, mi sorprende che a manifestazioni di questo tipo ci siano deputati della Repubblica che accettano un oltraggio a forza dell'ordine, che anche in questo caso, proprio del mantempo, si sono resi a disposizione della popolazione sacrificandosi e cercando di dare risposta al territorio e qualche deputato della Repubblica ha il coraggio di partecipare a una manifestazione dove si dice e non voglio ripetere le parole violente utilizzate, ma che la polizia deve essere spazzata via paragonando ai fascisti. È inaccettabile, lo dico con forza, è inaccettabile, perché quelli che dovevano manifestare contro il rischio fascista stanno dimostrando i più grandi fascisti, intolleranti e antidemocratici della storia. Io spero che vengano presi delle distanze da chi ha le valgieri in quel corteo, dai partiti anche rappresentati in Parlamento che hanno le valgieri in quel corteo, perché è inaccettabile una situazione di questo tipo. È una vergogna, mi vergogno.